Gara 1 del nono appuntamento del Mondiale Superbike, il debutto assoluto di Cremona, 53esimo circuito ad ospitare il campionato delle derivate di serie, il settimo in Italia. La gara 1 è partita con Niccolò Bulega in pole position ma subito attaccato da un aggressivo Andrea Iannone che si porta al comando in seguito anche da Danilo Petrucci che è partito in seconda fila per la penalità rimediata durante le prove del venerdì, Petrucci subito all'attacco di Andrea Iannone, si fa luce dalle retrovie anche Axel Bassani in un'ottava posizione nella prima parte della corsa quando al sesto giro Andrea Iannone come vedete cade alla curva numero 7, costannazione per il team Go Eleven che intravedeva questa grande possibilità nella gara di casa, mare nei capelli per i tecnici, la gara va avanti con uno scatenato Petrucci davanti a Niccolò Bulega e Alex Loews con la Kawasaki in super concessione, mentre vehemente anche la rimonta di Alvaro Bautista, Alex Loews cade nella stessa curva numero 7, teatro dell'incidente di Iannone, occasione persa anche per il britannico della Kawasaki. Anche nel box Kawasaki c'è grande amarezza, mentre continua la forzennata rimonta dalla quinta fila di Alvaro Bautista, soltanto tredicesimo in super pole ma estremamente abile nel recuperare posizioni pur essendo partito in condizioni ancora meno mate per l'infortunio alle costole rimediato nella super pole race di Magnicourt due settimane fa. L'attacco ad Andrea Locatelli con la Yamaha numero 55 e poi anche ai danni della Honda di Iker Leucona per la conquista del terzo gradino del podio, un risultato davvero formidabile, mentre Danilo Petrucci ancora meglio, prima vittoria in carriera nel mondiale superbike, gara interrotta a 6 giri dalla fine per un problema elettrico nei sistemi di sicurezza della race direction, grande festa nel team Barney e soprattutto grandissima gioia enorme soddisfazione per Danilo Petrucci che battezza così la prima vittoria nel mondiale superbike, dopo quattro anni l'ultimo successo dei due ottenuti in MotoGP a Magnicourt, un recupero lampo dal gravissimo incidente della primavera scorsa nell'allenamento con il motocross e veramente una giornata di grandissima soddisfazione sia per Danilo, per il suo team ma anche per l'intero motociclismo italiano. Ecco il l'inno nazionale che saluta questa magnifica e stupenda vittoria mentre la classifica di gara 1 ci dice Petrucci, Bulega, Bautista, Lecuona, Bassani, Pierlu, Vandemarche e Gerloch mancava Tocca, grazie a Teoglu per il motocrossfortunio. È un sentito incredibile, non ho capito che ho vinto la race ma è incredibile e è incredibile che ho vinto qui in Italia in fronte dei miei amici e è davvero il nostro romanzo e posso dire grazie a tutti, ancora non credo cosa sta succedendo ma come hai detto, dopo Stoxx 600, 1000, Moto America, MotoGP, ho vinto anche la race in World Superbike e credo che oggi sono la più felice di persone del mondo. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Well done Danilo.